Dalla mezzanotte scorsa è scattata l'ordinanza che pone il comune di Atessa in zona rossa. Il numero dei contagi è cresciuto in questi giorni e si è reso preoccupante, tant'è che il sindaco già mercoledì scorso aveva disposto la chiusura del plesso scolastico di Atessa a capoluogo. Ad oggi i positivi accertati sono 123. Sindaco, intanto qual è la situazione? Abbiamo superato il livello di guardia, la regione ha disposto la zona rossa e quindi ci sono una serie di restrizioni e di limitazioni dovute appunto a questa situazione. Subito dopo la notizia dell'ordinanza in zona rossa ci sono stati momenti concitati, lei ha ricevuto tantissime telefonate perché Atessa e la Valdisangro? Sì, c'è stata qualche difficoltà diciamo così di interpretazione dell'ordinanza regionale perché tra le deroghe che prevedeva non c'erano quelle per chi doveva spostarsi e entrare e uscire da questo paese per motivi di lavoro, avendo qua la zona industriale più importante della regione si capisce che insomma c'è stata qualche difficoltà, dopodiché siamo intervenuti noi come comune, d'altra parte sono cose che succedono, il comune si sa è il primo fronte sul territorio delle istituzioni, abbiamo rimediato chiedendo spiegazioni alla regione, penso che adesso la regione correggerà, integrerà quella ordinanza, ma intanto comunque assumendoci la responsabilità di far andare a lavorare tutti quelli che per comprovate ragioni devono venire qua in Atessa da altri comuni o addirittura da altre regioni a lavorare in fabbriche che si chiamano Sevel, Onda e tutto l'indotto che questo comporta. Visto l'aumento dei casi di Covid tra i giovani, ben 25 sono minorenni attualmente positivi al Covid, il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole fino allo screening che ci sarà il 13 e 14 febbraio. Abbiamo disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine grado, dagli assedi nido alle scuole superiori. Naturalmente però adesso dobbiamo vedere qual è l'effettivo stato di contagio e di diffusione del virus, perché è evidente che è un virus più aggressivo rispetto anche a prima. Quando faremo lo vedremo questo, qual è il reale stato di salute e di contagio nel Paese, quando arriveremo allo screening di tutta la popolazione, che come vedete qui anche dai manifesti che abbiamo affisso, si faranno alla fine della prossima settimana, sabato 13 e domenica 14 febbraio, in tre palestre, che sono le palestre della Spaventa, di Monte Marcone e di Ciampole. In queste tre palestre, dalla mattina alla sera, tutta la popolazione è invitata a sottoporsi al test per dare, lo stiamo facendo insieme alla Prefettura e alla ASL questo lavoro, ma per dare appunto alle autorità sanitarie una reale possibilità di valutare qual è la diffusione del virus nel nostro Paese. Quindi a questo riguardo stiamo invitando tutti a partecipare, perché per essere attendibile questo test deve vedere una larga partecipazione dei cittadini.